che si uccidono a colpi di rocket league in un'arena del genere madonna mia cosa sta facendo questo rotto borollo si è trovato spiazzato ma attenzione però lo sbaglia il volo federico si porta la macchina subito sul tetto controllo il pallone cerca una schiacciata ma borollo era lì ad aspettarlo questo quello che volevano i miei cari spettatori benvenuto nell'arena di the king serie abbiamo un altro nuovo concorrente cristian che vuole sfidare il nostro borollo come finirà come finirà non ci resta che scoprirlo insieme ragazzi perché tra il 3 2 1 si incomincia eccoci qua la palla in campo vince subito cristian questo primo scontro ma borollo non lo molla torna subito a recuperare il pallone se lo porta sul muro cosa vuole fare borollo forse un pallonetto sì ma però cristian rimane composto dice borollo non andare troppo in giro perché io la mia posizione non la perdo il cristian ma subito in vantaggio 1 a 0 ragazzi questo è uno scontro in categoria platino non dimentichiamolo platino con il cristian la nuova new entry che si porta subito in vantaggio contro il nostro borollo ma borollo non si arrende 3 2 1 chi vincerà questa battuta vediamolo borollo la manca cristian per sbaglio e appunto va a fare un tiro improvviso e per un po non va al segno e allora appunto borollo cerca la sua ripartenza cerca per vedere appunto cristian cosa vuole fare ma cristian lo aspetta a centro e gli porta via il pallone il nostro borollo appunto si trova in difficoltà in questo avvio di questa partita ma attenzione che recupera del nostro borollo attenzione ma il nostro cristian non demorde si porta la palla sul muro la tiene lì ma borollo lo cura attenzione lo cura perché cristian può perdere un attimo ma borollo lo fa andare si piazza il pallone cosa vuole fare borollo attenzione un pallonetto e solo porta in porta 1 a 1 che azione anche di borollo però attenzione perché il nostro cristian è veramente attento che incontro platino veramente veramente molto bello molto bello allora la palla resta centro capo per una nuova battuta 3 2 1 succederà un boom no vince questa battuta cristian attenzione cristian vince questa battuta che può andare al tiro ma la palla è troppo troppo angolata e non riesce a dare alla conclusione però appunto borollo cerca di sfruttare questo suo errore ma cristian invece molto 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 attento però appunto sbaglia anche la palla sul muro che borollo può andare a questa ripartenza cosa succede borollo si alza cosa fa va sul 2 a 1 va sul 2 a 1 ottima partenza di cristian però borollo essendo attento sta cercando di sfruttare gli errori che comunque cristian ne fa ben pochi di errori attenzione la palla rimane ancora lì 3 2 1 ecco qua appunto borollo sbaglia l'approccio iniziale e cristian si porta sul pareggio attenzione ma che lotta è ma che scontro platino categoria platino in questo the king series ragazzi attenzione 3 2 1 cosa succederà in quest'altra battuta borollo cristian si lanciano la vince borollo attenzione forse va in porta no tira via il forse perché la palla è in porta e borollo si porta sul 3 a 2 cavolina ragazzi che battute tra questi due platino che battute senza senza pause e allora si riprende subito con un 3 2 1 la palla lì che aspetta solamente di essere picchiata e questa volta vince appunto la battuta il nostro barollo che la palla si porta nell'aria di cristian ma cristian è subito velocissimo cerca di andare sul lato sinistro del suo campo per fare un pinci lo fa attenzione ma però non c'entra la porta allora subito il cristian la riporta in mezzo ma può essere una brutta una brutta scelta ma gli è andata bene perché borollo ha mancato il pallone cristian si porta sul 3 a 3 ma che incontro ragazzi in questo the king series categoria platino ma che incontro ma che bel tiro che ha fatto anche il nostro cristian complimenti attenzione borollo non deve assolutamente rilassarsi perché cristian non è una un avversario che puoi prendere sotto gamba allora la palla rimane a centrocampo in questa settima battuta però attenzione perché borollo può spiazzare cristian palo palo per un pelo ma va ancora subito e 4 a 3 mamma mia un gol dopo l'altro ragazzi un gol dopo l'altro un gol dopo l'altro ragazzi cavolina intanto vedo nuove persone un attimo finisce l'incontro e dopo vi leggerò tutti i vostri messaggi attenzione intanto 3 2 a 1 la palla resta no vince la battuta cristian si si giusto cristian però borollo la tira via subito dalla sua porta cavolina questo borollo che velocità in copertura adesso cerca di andare ancora al gol palo doppio palo però la palla di resta lì attenzione va sul 5 a 3 va sul 5 a 3 ragazzi miei ma che scontro qua cristian si è un po rilassato deve cercare di rientrare nella sua macchina perché abbiamo appunto potuto vedere che se entra rimane concentrato cristian è un bella una bella un bell'assotosto ragazzi ecco la battuta la palla resta al centro campo cristian può andare all'offensiva però la palla si mette troppo al lato però attenzione perché cristian può fare un air dribble lo fa lo fa però se la porta sul muro però attenzione borollo resta spiazzato ma cristian non riesce a andare alla conclusione allora borollo con estrema calma può preparare la sua ripartenza cosa fa cosa fa cosa fa vediamo si vola ma non anche lui non lo porta segno però appunto vediamo il nostro cristian che può andare ad avere la sua bellissima ripartenza la può fare la sua ripartenza però borollo è lì che lo aspettava già al punto giusto sapeva già che il pallone fosse caduto lì attenzione perché cristian si porta la palla nella sua porta però è agilissimo attirarla via però borollo caspita che pressione gli mette al nostro cristian che pressione però appunto attenzione perché cristian ahimè poteva veramente fare una ripartenza full minimum ma ha avuto una sfortuna sul tocco della appunto della sua ripartenza attenzione borollo cosa fa borollo cosa fa attenzione va sul tiro la palla e va sul 6 a 3 va sul questo tiro e porta la partita sul 6 a 3 ragazzi che bellissima partita ancora un minuto e 32 però attenzione anche se borollo sta vincendo 6 a 3 non è detta che sia finita perché in un minuto e 32 la partita può prendere totalmente un'altra piega intanto questo contrasto subito a centrocampo lo vince il nostro borollo attenzione si porta la palla a centrocampo che comunque si porta scusatemi sul 7 a 3 questa battuta lo ha favorito lo ha favorito a borollo questa battuta attenzione attenzione però mancano ancora un minuto e 27 vediamo il nostro cristian cosa vuole fare cosa vuole fare vediamo un attimino la palla rimane lì no vince questo contrasto il nostro borollo ma cristian cerca di andare subito ai ripari cosa fa borollo studia i movimenti di cristian che è lì ad aspettarlo cerca di scavalcarlo attenzione 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 8 a 3 8 a 3 ahimè questo minuto non sembra favoreggiare minimamente il nostro cristian che va in difficoltà perché comunque 8 a 3 è un risultato un po pesantuccio che comunque non si merita cristian perché il nostro cristian è veramente veramente bravo anche lui allora questa battuta appunto borollo la vince borollo cosa succede cristian cerca di andare ai ripari va lì borollo lo spetta nella sua tre nella sua area però gli fa una splendida parata usando la sua ball cam piazzata inquadrata e incorniciata verso la macchina la dominus di cristian ma attenzione perché l'octane di borollo vince questo con questo scontrasto però cristian vuole provare a ripartire si porta la palla sul muro per fare un pinch che non gli riesce attenzione allora borollo può andare al recupero ma cristian lo frega sul tempo e allora cosa succede va sull'8 a 4 accorcia le distanze il nostro cristian accorcia le distanze in questo incontro platino di the king series ragazzi accorcia le distanze 8 a 4 comunque per borollo 3 2 1 la palla li sta aspettando chi vincerà questo incontro borollo però attenzione non è in condizioni di andare all'offensiva allora cristian può provare la ripartenza lo scavalca attenzione attenzione perché qua borollo può subire una rete ma no perché comunque dice io l'allontano la porto via sotto braccio con me questa palla allora si prova appunto questa ripartenza ancora borollo mancano ancora 8 secondi ma borollo non sembra voler risparmiare cristian ma cristian riesce a bloccarlo tiene lì il pallone per fare la ripartenza attenzione la palla ancora in alto per cui può continuare ma adesso la tocca a terra e finisce l'incontro che un borollo che batte in questa partita il nostro cristian